La formula magica per vendere di più. Oggi voglio svelarti questa formula magica, chiamiamola così, ma in realtà è un modo interessante per vedere quello che proponiamo al mercato e come viene percepito dal punto di vista dei clienti che se proposto in un certo modo aumenterà di tantissimo la capacità di chiudere i contratti, quindi di vendere. Ne ho già parlato qualche giorno fa e oggi lo riprendiamo. Tendenzialmente le persone quando acquistano qualcosa che sia un tuo prodotto, un servizio eccetera, acquistano un risultato, un qualcosa di ambito, a cui ambiscono, che riceveranno. Io compro un libro perché so che quello che troverò all'interno mi piacerà tantissimo, poi il libro arriva e non lo leggo. Male, perché ti rendi conto che ho fatto un acquisto completamente inutile, ma la maggior parte delle persone ragiona proprio in questo modo, quindi fa acquisti compulsivi senza poi effettivamente riuscire a ottenere il risultato per cui ha acquistato. Nell'esempio stupido del libro è acquisire il contenuto che c'è al suo interno. Qual è però il punto? Che nel momento che dobbiamo vendere qualcosa a qualcuno, dobbiamo proporre il nostro prodotto o servizio nel mercato, le persone, oltre al valore percepito che sanno che otterranno, otterranno in considerazione un'altra cosa, ovvero lo sforzo necessario per ottenere quel risultato. Nel senso che io potrei dire, guarda ti vendo questo libro, diventi un fenomeno, è un libro di 18.000 pagine, ci metterai tre anni solo per leggerlo. Caspita, è bello il libro, è interessantissimo, però richiede troppo sforzo e quindi non l'acquisterò mai. Ora, l'esempio ovviamente è banale, qualche giorno fa, anzi ti avevo fatto un esempio che rende molto meglio l'idea, ovvero è questo. Tu vuoi dimagrire, vuoi mettere su un fisico spettacolare, vuoi gli addominali scolpiti e c'è un personal trainer che ti dice, guarda vieni da me, in due anni se ti alleni costantemente per tre volte a settimana, tra due e tre anni avrai degli addominali perfetti. E una persona potrebbe dire, caspita però, no, due anni è troppo. Quindi anche se il risultato è quello sperato, il tempo richiesto è troppo. E questo indipendentemente dal prezzo, perché il costo potrebbe essere veramente basso, ma l'impegno richiesto è troppo alto, di conseguenza la persona non passerebbe all'azione. Al contrario, se ci fosse un'ipotetica formula magica per cui chiama al numero XXX appena ti rispondo, stai al telefono in dieci secondi, come metti giù il telefono, hai gli addominali scolpiti, ecco immagina una situazione del genere, ovviamente paradossale e impossibile, però pensa a quanto aumenterebbe effettivamente il valore percepito per quel cliente e il prezzo passerebbe veramente a secondo piano, perché chiunque vorrebbe gli addominali scolpiti e sapere di ottenere il risultato con uno sforzo così basso e con un tempo richiesto così basso sarebbe veramente una goduria immensa. Ed è proprio qui su cui voglio portare la tua attenzione, ovvero questi due elementi, lo sforzo richiesto per ottenere il risultato che tu proponi, due il tempo richiesto per ottenere questo risultato. Questi sono due elementi che solitamente non si considerano durante la vendita quando si propone qualcosa, eppure sono due elementi fondamentali che influenzano tantissimo la decisione dei due clienti. Quindi pensa a ciò che proponi e chiediti come puoi abbassare in maniera drastica questi due valori, il tempo richiesto per ottenere un risultato e o lo sforzo necessario per ottenerlo. Questi sono due elementi, ripeto, fondamentali. Ti faccio un esempio molto banale che rende bene l'idea perché è concreto ed è proprio di oggi, nel giorno stesso in cui registro la pillola. Questa sera vengono un paio di amici a casa mia perché finalmente dopo mille anni riesco a fare una serata con i miei giochi da tavolo, che vedi qua alle spalle, e dobbiamo cenare. Qual è il punto? Che ho aperto l'app per cercare il ristorante dove ordiniamo solitamente e chiuso. O meglio, è aperto ma non consegna domicilio. Quindi io dovrei, o qualcuno di uno dovrebbe andare al ristorante, prendere la roba e portarla a casa. È uno sforzo troppo grande. Quindi cosa succede? Che in questa situazione particolare preferiamo mangiare qualcosa di più cattivo, tra virgolette, nel senso quello è il nostro ristorante preferito per quando facciamo queste serate, ci piace molto, però pur di non perdere tempo, sprecare tempo e energie, preferiamo mangiare peggio. Ora, ti rendi conto di come questa visione della cosa stravolge completamente quella che è la visione tradizionale, ovvero se ho un ristorante devo necessariamente far da mangiare in maniera eccezionale, altrimenti le persone non tornano più? La risposta è SNI. Di questo ne parlo oltretutto nel mio corso Business Architect, perché dipende cosa compra la persona. Io questa sera, o noi, io insieme ai miei amici, questa sera compriamo velocità e comodità, non la qualità del cibo. Quindi ciò che ci interessa è che qualcuno ci porti da mangiare a casa. Punto. Ed è importantissimo questo alimento. Quindi inizia a ragionare sul tuo business e chiediti come puoi fare per azzerare questi due valori e renderli veramente alla portata di tutti in maniera veloce e senza sforzo. Se riesci a trovare la giusta formula ti assicuro che vendere sarà incredibilmente facile e il prezzo non sarà nemmeno più un problema perché le persone saranno realmente interessate a comprare ciò che offre e quando una persona vuole qualcosa davvero il prezzo scende davvero in secondo piano. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao. Aggiungo. So che per alcuni business questo è molto più facile. Immaginiamo l'esempio del personal trainer appunto. Hai un sistema di allenamento che in un mese porta i risultati grandiosi. Cavolo. Lavora proprio su questo e spingi, fai leva su questo perché è una promessa importante e le persone ne saranno attratte. Ce ne sono altri su cui è molto più difficile lavorarci. Ad esempio un ristorante. Sì, è vero che alcuni cercano la comodità e la velocità ma non è sempre così. È difficile riuscire a basare un business solo su questo a meno che non sia un ristorante proprio specializzato su asporto e domicilio. Però ragionaci comunque perché anche tu avrai qualche leva che puoi sfruttare per abbassare o azzerare questi due valori e se ci riesci il tuo business prenderà un'impennata incredibile. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!